Volete iniziare bene il nuovo anno? Venite alla Mondoflec! Sono iniziati i saldi invernali con sconti dal 30 al 70 per cento. Reti, materassi, letti, divani, poltrone di fine serie, da campionatura, da esposizione a prezzi di realizzo. E poi la nostra fiera del bianco, copri piumini, coperte piumini scontati del 20 per cento, sempre con i pagamenti rateali senza interessi e con la carta oro un ulteriore 10 per cento di sconto. E con il servizio a domicilio, se non potete venire in negozio, chiamateci, prenotate una nostra visita a casa vostra. Scegliete Mondoflex, perché Mondoflex fa la differenza!